Musica Una volta Dopo Cioè anche se ormai Ah abbiamo zuppa di farro in verità Che c'ha la taglambello Dicevo Ehm Proveremo ancora una volta A fare sta cazzo di cosa Ma Cioè è proprio impossibile Secondo me ragazzi Io più Più vado avanti Più mi sembra Mi sembra una cosa impossibile Che non riuscirò mai a fare E vabbè No ma mi stavo ammazzando Ragazzi Olè Cazzo è finito questo tipo ragazzi Dov'è Ah guardalo Ok E ora Iniziano i problemi Perché questo pompa Fa schifo Fa solo hit marker Ok zio Entra qua Bravo Oh cazzo Ok no Olè Bene raga Allora questo pompa Non è una merda Così come pensavo Cioè sul gioco delle armi Al fine Non è delle armi più facili Infatti l'abbiamo fatta subito Qua c'è uno Se lo portiamo a casa Istantaneamente Ok Questo sale qua E lo spacchiamo Perfetto raga Perfetto Ma in fondo c'è uno Questa Questa zona Mi ricorda tanto L'ultimo episodio In cui siamo morti Tipo a Qualcosa come Boh Non mi ricordo Proprio con quest'arma Ok Questa volta Però è andata bene È stato Moriamo con questa Non è che cambia qualcosa È stato una questione Di tempo raga Se c'è una cosa certa Nella vita È che io morirò In gioco delle armi Non farò mai La parità perfetta Oh Camperemo un po' qua Cazzo ma c'è il radar È vero Puttana No raga No No raga No raga No raga No raga Ma sono proprio un idiota Mi vado a mettere Nei buchi Che mi dimentico Che c'è il radar Ma c'è Oddio My god Oh my god E ora Ora sono Cazzi Ora moriamo Ora moriamo Perché porco giuda Il gioco mette i bazooka Oddio mi sto sparando Oddio impatto diretto Coltello raga Coltello Coltello No raga No raga Qua moriamo Ma proprio Sicuro Guarda Oddio I pugni Raga i pugni Raga i pugni Raga i pugni Raga i pugni Ragazzi i pugni Cosa cazzo faccio raga Cosa porca Oddio Questo è ferito Questo mi sa che è ferito Questo mi sa che è ferito Ma sta scappando No ne ho uno qua Ne ho uno qua Sono morto Cazzo 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 E minchia Faccio E ce la fa Fettiziano Fettiziano Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No vabbè Non raga Non ci girano No raga Scusate la risata Da satanico Però Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Bene Siamo sempre Andati A crescere Episodio Dopo episodio Siamo riusciti A andare sempre Più in serie E se ci sarà Proprio bella partita Facciamo il gesto E questo episodio Siamo riusciti a fare Il 20-0 Ragazzi Oh mio dio Sto tremando Oh mio dio Uh Quindi Io direi una cosa Ragazzi Questo è l'ultimo episodio Chiedo una cifra assurda 20.000 like Ok 20.000 like Per questo episodio E se volete Road to Warfast Gun Game Quindi gioco delle armi Quindi si cambia serie Si va a fare il più veloce Del mondo 20.000 like Ma cioè Penso di meriti tutti Questo video Perché Oddio ragazzi Sto tremando No sto scherzando Ovviamente Mi avete perso per malato Niente Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non ci credo Oh mio dio Al primo tentativo Prima parità di oggi Ce la fa Ce la fa Ce la fa 20.000 Oh Oh Tra l'altro Contro il buon Zuppa di Farro Che ha provato Tutto il tempo A uccidermi Oddio Bene ragazzi Bene ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Che stasera Vi sia piaciuta Evita a lasciare Un bel like E noi ci becchiamo Domani Alle 13 E 30 Con un nuovo video Bella raga Ragazzi Faccio questa piccola outro Perché adesso Mentre sto appunto Editando il video Mi sono reso conto Di una cosa Uno degli avversari Aveva la tag clan Velo E quindi Io ho Dentro di messo Già che Ci saranno commenti Che diranno Che Questo io lo conoscevo E che era una cosa Organizzata Lo so Perché C'è Cosa è scontata E volevo dire una cosa Innanzitutto Io non ho idea Di chi sia Secondo Di persone Con la tag clan In me Di sì Io ve lo incontro A centinaia Ogni giorno Quindi Non ci posso fare Granché ragazzi Cioè io entro nelle lobby E gioco Fine Quindi Che questo abbia la tag Velo Che abbia la tag Pene Non è una cosa Che mi interessa Perché io non so chi sia Come non so chi sono Tutti gli altri che incontro Ecco E questo credo lo sappiate Perché tanti di voi Sanno Cosa vuol dire Entrare nelle lobby E trovare decine di MNDC Quindi Niente raga Volevo semplicemente Dirvi questo Poi non so Scrivetevi se avete dubbi Io non so chi sia Quindi Niente Spero che il video Vi sia piaciuto Bella Ciao 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 Grazie a tutti